Romina Carrisi La ragazza, infatti, ha perso molto chili. Tra le figlie di Albano, era quella più in carne, adesso è forse la più magra. . Ecco cosa le è successo.Romina Carrisi, la verità sulla sua salute.È la stessa ultimo genita di Albano a chiarire tutto sui social. . La sua salute negli ultimi tempo stava peggiorando. Problemi non gravissimi, ma che mettevano in serie difficoltà la sua quotidianità. La ragazza appare, però negli ultimi scatti fortemente dimagrita.Mai suoi chili persi non sono la conseguenza di una dieta utile a fare un fisico più fine e bello da vedere, ma la sua è stata una dieta forzata. . I problemi di salute continui l'hanno praticamente costretta a seguire un regime alimentare più limitato, eliminando molti degli alimenti più grassi e poco salutari. . La malattia della figlia Romina.Il dimagrimento di Romina, sarebbe quindi conseguenza di un problema di salute non grave ma comunque fastidioso. . . La figlia del duo Canoro più famoso del mondo, ha confessato, i fatti, di soffrire di una grave intolleranza al nickel. . . Proprio per questo la più giovane dei carrisi povera ha dovuto cambiare le sue abitudini alimentari. . 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 Il fatto fare dei sacrifici se di mezzo ci è la tranquillità, la serenità fisica e psichica. .